E ciao a tutte e ciao a tutti, allora sì ho pubblicato prima di questo video, non è vero due video prima di questo video il video annuncio di Luca Comics che sarò al pala youtuber alle 5 e mezza oggi che è domenica 30 in realtà devo subito cambiare poiché sono sorti alcune problematiche per arrivare appunto al pala youtubers quindi voglio cambiare con una bella mappa in mano vedete voglio cambiare il posto dove ci sarà il raduno quindi se volete ovviamente se non mi faccio andare avanti e indietro vi indico dove voglio fare il raduno dunque mappa gigantesca dove il fuori al padiglione dei games pubblicano questo video anche su instagram e facebook quindi dove sta? Allora dovrebbe stare? Allora è questo qui eccolo qui questo? sì mostra Luca Games sì proprio qui vicino al baluardo Santa Maria che è a sud proprio della mappa quindi sì in realtà sarebbe poi vedete così la visuale passeggiata delle mura vabbè stiamo qua siamo vicino al padiglione di The Walking Dead non è anche fuori magari dietro sì 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 fuori alle mura e quindi sì qui 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 quindi fate un attimo il giro del padiglione magari ci vediamo all'entrata del padiglione no? all'uscita sì all'uscita quindi magari fatevi un giro nel padiglione games e poi venite all'uscita da me se volete e nulla cosa? alle 5 e mezza alle 5 e mezza ovviamente sì 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 ok ci vediamo finito grazie grazie grazie